Abbiamo già avuto segnali di curiosità da parte di giovani coppie che si sono già rivolti ai nostri uffici tecnici. Suscita interesse la pubblicazione del bando con il quale l'hatter Treviso mette all'asta 24 alloggi di edilizia residenziale pubblica che verranno aggiudicati esclusivamente a coloro che intendono acquistare una prima casa. Quindi è un motivo, un modo, anche un tentativo di dare delle risposte magari a delle giovani coppie che non riescono ad andare a comprarsi una casa sul libero mercato. Si tratta di appartamenti e villette a schiera sparsi fra Treviso, Castelfranco Veneto, Mogliano Veneto, Spresiano, Caerano San Marco, Pieve di Soligo, Vittorio Veneto, Carbonera, Silea e Susegana con una base d'asta che varia dai 29.000 ai 78.000 euro. L'hatter Treviso assicura che gli alloggi sono immediatamente disponibili e liberi da ipoteche. Gli aggiudicatari dovranno aggiungere al prezzo l'IVA, le spese del rogito e le tassazioni inerenti alla compravendita. Gli immobili potranno essere visionati a partire dal 13 aprile e fino al 3 maggio. La presentazione dell'offerta si concluderà il 7 maggio e le aste si terranno nel periodo tra l'11 e il 18 maggio. Il bando e il calendario delle visite e degli alloggi, comprese tutte le informazioni necessarie alla partecipazione all'asta, sono disponibili sul sito dell'hatter Treviso.